Allora, benvenuti a tutti di nuovo, benvenuto a Professor Biazzo. Allora, come al solito, prendo io la parola a pochissimi minuti per introdurre la lezione di questo pomeriggio. Allora, siamo ormai arrivate al nostro quarto intervento di questo corso dedicato all'educazione alle pari opportunità. La scorsa settimana la professoressa Palumbo ci ha mostrato come la fonte letteraria femminile possa essere utilizzata non solo per raccontare la storia da un punto di vista diverso, ma anche per affrontare temi storici importanti come quello dell'istituzione matrimoniale, il tema dell'urbanizzazione legato alla conquista di alcuni diritti importanti da parte delle donne, come quello della parità salariale, o la questione sempre molto attuale della violenza domestica, in particolare contro le donne. La professoressa Palumbo, usando toni a volte anche provocatori, ci ha mostrato come sia possibile raccontare il passato altro, anzi, per meglio dire, il passato dell'altro, o ancora per specificare meglio, dell'altra, partendo da un punto di vista differente. L'intervento che vi proponiamo questo pomeriggio ha origine proprio da questa esigenza narrativa. È possibile raccontare una storia dell'altro? E quali strumenti abbiamo a disposizione? Quali discipline possono aiutarci a cambiare il punto di vista della nostra narrazione storica, per comprendere la diversità e dunque raggiungere una vera e propria parità di diritti e doveri? E sono proprio queste domande che verranno prese in esame dal relatore di questo pomeriggio, il professor Paolo Biazzo. Il professor Biazzo, scusate, faccio solo una cosa, che ci sono degli audio aperti, anzi, vi chiedo gentilmente, se avete gli audio aperti, di insegnerli, perché altrimenti... Ok, c'è un po' il rimbombo. Allora, aspettate, disattivo qualche audio, così, perché se no c'è un po' di rimbombo. Allora, il professor Biazzo insegna antropologia sociale all'Università di Torino, ha condotto ricerche sul campo in area alpina e si occupa di antropologia delle società complesse, delle relazioni tra antropologia, storia e demografia, e di antropologia delle migrazioni e della mobilità. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi per prestigiose riviste nazionali e internazionali ed è autore ed editore di oltre 20 volumi e vorrei in particolare citarvi questi. Comunità alpine, ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi, pubblicato per il Mulino. Introduzione all'antropologia storica, pubblicato per la terza. E per forza o per scelta l'immigrazione straniera nelle Alpi e negli Appennini, pubblicato con altri autori, con Arachne editrice. Sono veramente molto contenta che il professor Biazza abbia accettato di tenere un intervento al nostro corso, non solo perché è stato anche mio professore all'università, con il quale ho seguito uno dei corsi più belli nel mio percorso universitario, ma anche perché con la sua riflessione inauguriamo oggi la seconda parte del nostro corso, dedicata alle pari opportunità in senso più ampio, non solo dunque come parità di genere, ma come una vera e propria assenza di ostacoli a quella partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni cornesse al genere, alla religione, a convinzioni personali, all'origine etnica, all'età, alla sua abilità o al suo orientamento sessuale o politico. Ringraziandolo dunque di cuore per la sua preziosa disponibilità, passo la parola al professor Biazzo. La sentiamo, si sente, si si la sentiamo. Vi chiedo solo una cosa, ecco, è meglio così o com'era prima? Forse prima, mi sembrava meno... Ecco, si si, ora metto l'auricolare... Meglio, si, meglio, meglio. Certe volte è un esito, bene. Allora, è stato un po' avventuroso, ecco, arrivare, come dire, partecipare a entrare, diciamo, in questa sala di riunione, devo dire che, visto che questo è un incontro organizzato dall'Istituto per la Storia della Resistenza, nel Bielese, nel Vercellese, in Valsese, ecco, mi permetto di dire che vi sto parlando da Vercelli, ho fatto un viaggio abbastanza avventuroso, con un'ora di ritardo, un discreto di sea, per arrivare da Torino a Vercelli, e qui a casa mia, da dove vi parlo, ecco, quindi... Insomma, mi sento un po' a casa, in tutti i sensi, anche se è una riunione virtuale. Va bene, allora, il tema che mi è stato chiesto di trattare è questa antropologia storica come contributo a una didattica della storia dell'altro. Ecco, non è facilissimo, è che io ho messo insieme qualche slide che cercheremo appunto di discorrere. Ovviamente il tema è molto ampio, adesso appunto la professoressa Malvestito appunto ha ricordato che aveva seguito un mio corso, solo che in quell'occasione abbiamo 36 ore a disposizione, qui forse ho 36 minuti o poco più, quindi farò quello che posso. Ecco, quindi, va bene, allora, ecco, per cercare di dare un'idea di che cosa è molto superficiale, ecco, ovviamente, di che cos'è l'antropologia storica, anche come io ci sono arrivato, come sono stato quasi obbligato a rifletterci, vorrei partire forse anche da qualche notazione personale. Beh, intanto qui vedete la copertina di questo libro, Introduzione all'antropologia storica, che è stato pubblicato nel 2000, quindi sono passati vent'anni. E poi vedete appunto invece alla destra, ecco, la copertina invece di un numero recente di una rivista che si chiama La ricerca folclorica, che qualche anno fa ha avuto l'idea, insomma, di chiedere a praticamente a tutti gli antropologi, oltre una certa età, diciamo così, di scrivere un articolo, insomma, delle riflessioni autobiografiche per costruire così collettivamente una sorta di autobiografia dell'antropologia italiana. Allora io ho accettato e ho pensato di titolare il mio intervento mezzo secolo sul crinale fra antropologia e storia, ecco, quindi come potete vedere. In effetti riflettendoci, si era nel 2018, ho scoperto che più o meno da mezzo secolo, adesso l'abbiamo lievemente superato, ecco 50 anni, quindi dai miei primissimi anni, diciamo, di studente universitario, che mi muovevo veramente su questo crinale. Ecco, io mi sono lavorato in lettere nel 75 e, diciamo, ed ero andato all'università, mi ero scritto lettere a Torino nel 69, con in realtà una forte interesse per la storia antica principalmente, ma soprattutto, ecco, direi, un forte interesse per la psicologia, erano gli anni, quindi erano quegli anni, e anche un interesse secondario per l'antropologia, l'antropologia culturale, questa disciplina allora piuttosto misteriosa, a cui l'ho arrivato appunto attraverso letture psicologiche e avevo scoperto questa disciplina allora del tutto sconosciuta. Insomma, sono storie a assumere tutto quanto, però penso di poter dire, ecco, che una volta laureatemi in lettere, però ecco, attenzione, c'era stata la riforma del 69 e di fatto era stato costruito una sorta, potremmo dire quasi di corso di laurea di storia, ecco, lo chiamavano orientamento storico, quello che ho imboccato io, e ho cercato di costruirmi appunto un piano molto personale, personalizzato come era possibile allora, molto più di oggi, e avevo cercato di mettere insieme appunto esami di storia antica e esami di antropologia culturale, etnologia, insomma, storia delle religioni, disciplina, allora, forse la disciplina più vicina, ecco, sto di fatto che mi sono lavorato con una tese nel 75 che si intitolava Aspetti, non ricordo bene, comunque, Aspetti religiosi e culturali del mondo tardo antico, quindi era una tesi sul tardo antico, che cercava appunto di leggere alcuni aspetti da un punto di vista antropologico, forse era un lavoro ingenuo, insomma, in gran parte, ecco, in gran parte è da autodidatta, perché non è che ci fosse proprio moltissimo allora, da di fatto che seguendo il consiglio di miei professori sono andato a studiare in Inghilterra e nel 76 e 78 ho frequentato qualcosa di ragionevolmente simile a quella che è una magistrale odierna, ecco, non proprio uguale, ma qualcosa di abbastanza simile e poi ci era stato detto ma chi volesse fare proseguire perché non, insomma, tentare un dottorato di ricerca? Allora, io non sapevo bene che cosa fare, inizialmente pensavo di andare in Africa, no? Poi le condizioni non c'erano, allora avevo pensato alla Melanesia, alla Nuova Guinea, poi avevo pensato all'Indonesia, è stato il fatto che, credo che fosse appunto sì, il giugno, più o meno maggio-giugno del 77, finito il primo anno, mi stavo sfogliando in biblioteca a Londra una rivista e ho scoperto che c'erano molti antropologi americani, specialmente britannici e altri, che stavano conducendo, avevano condotto ricerche in area alpina. Allora, io sono vercellese di nascita, ecco, vi parlo da Vercelli anche per chi ci sono nato, ho avuto un'odissea di parecchi anni appunto, ecco, un'odissea che mi ha condotto dopo la laurea nel 75, prima in Inghilterra, per un paio, per due anni, per questo master, ecco, diciamo, chiamiamolo così, e poi, ecco, si trattava di trovare un tema, ecco, diciamo, un'area e dei temi per la ricerca sul terreno. Allora, io ho pensato, ma perché non studiare, visto che allora ero molto interessato anche il problema delle minoranze linguistiche, delle lingue di minoranza e così via, perché non studiare questa minoranza così vicina a Vercelli, quindi, insomma, ci potevo arrivare senza troppi problemi e al tempo stesso così, come dire, con tratti esotici che sono, insomma, quelli che conosciamo bene, i cosiddetti Valser, allora ho pensato di mettere in piedi una ricerca alpina, ecco, allora la topologia alpina, vedremo anche qualcosina, era in espansione, di fare una ricerca ad Alagna Valsese, o meglio, doveva essere Alagna Valsese, anche Glessione, ecco, proprio solo perché, appunto, questo corso, ecco, organizzato dall'Istituto per la Storia della Resistenza, appunto, delle tre aree, ecco, forse qualcuno la riconoscerà, forse no, ma, diciamo, in questa, su questa copertina c'è una fotografia di Alagna intorno al 1900, ecco, comunque, vedete, il libro non è su Alagna, è un libro che in realtà è cresciuto dalla mia tesi di dottorato che ho fitto nell'83 che era veramente una tesi sul mutamento linguistico e culturale attraversato da questa località dell'Alta Valsesia, località di lingua tedesca, ecco, colonia fondata da, come dire, località più o meno fondata o comunque da coloni che provenivano dall'Alto Vallese, ecco, quindi, diciamo, dal cantone di lingua tedesca, dalla parte superiore del cantone di lingua tedesca che sta immediatamente al di là della Val d'Aosta e confina anche con l'Alta Valsesia, con l'Alta Ossola, eccetera. Ecco, giusto per dirvi che quello che era partito come un lavoro di etnografia, ecco, se vogliamo, aveva finito per diventare un lavoro di esplorazione in profondità nel passato di questa località, Ragna Valsesia, soprattutto attraverso l'uso di fonti storico-demografiche, in sostanza avevo fatto, era l'epoca della demografia storica, ecco, non posso adesso dilungarmi, ma comunque avevo trovato un piccolo tesoro nell'archivio soprattutto parrocchiale, quindi avevo fatto ricostruzioni piuttosto, direi, insomma, sì, direi approfondite, ecco, su quella che era stata la storia demografica di questa località e mi ero imbattuto veramente in alcuni tratti sorprendenti, ecco, se non posso riassumere, ma veramente che non solo sulle forme di famiglia, come sempre sull'andamento della mortalità infantile, si supponeva che le Alpi fossero molto arretrate da questo punto di vista, quindi condannate anche, voglio dire, ad avere alta mortalità, ma questo non quadrava. e allora, così poi, attraverso un passaggio poi piuttosto lungo, ecco, per alcuni anni all'Università di Cambridge, in questo gruppo, ecco, qualcuno può vedere, ecco, è un gruppo, sono molto famoso, ecco, allora, di studi storico-demografici, quindi di studi della popolazione, sono arrivato poi a questo libro, che poi è stato anche pubblicato in Italia col mulino nel 90, e poi è stato ripubblicato in questa seconda edizione da Carocci, e appunto, come abbiamo visto, comunità alpine, d'accordo, quindi sono passato da uno studio di villaggio, diciamo, sono passato quello che si poteva fare a uno studio invece che, se ci pensate, copriva un rettangolo veramente ampio, perché, diciamo, un lato era rappresentato dall'intero arco alpino e l'altro lato era rappresentato da, come dite, da cinque secoli, ecco, quindi ho cercato di ricostruire dal Cinquecento, praticamente, sino a un oggi che erano oggi 1900 anni Ottanta, ecco, diciamo, e quindi di fatto sono partito per fare l'antropologo abbastanza convenzionalmente, quindi uno studio etnografico che al limite, come dire, sfruttasse la memoria locale, e sono venito invece per coprire, ecco, un arco temporale di cinquecento anni che mi ha costretto in qualche maniera a diventare storico. Ero partito per fare lo storico dell'antichità e sono finito in realtà a fare, boh, non so, il modernista, il contemporaneista, ecco, quindi, ecco, quindi, questo è stata, diciamo, un'avventura, certamente quando ho iniziato non pensavo, ecco, di fare questo. Ora, quello che possiamo dire è che comunque fare, io già avevo l'idea, ecco, di fare qualcosa un po' di storico. Quando sono andato a studiare a Londra era un corso per conversione, ecco, per convertiti. Io, ho anche un orologio per non fare troppo tardi, ma questo insomma poi andrò più veloce dopo. Ecco, diciamo che ancora negli anni in cui, quindi fine anni 70, ecco, diciamo, i rapporti tra antropologia storica e storia non erano facili. Ecco, qui possiamo vedere, questa è veramente una slide che riassume, beh, insomma, riassume cento anni di relazioni tra discipline, ecco, però possiamo dire che quando l'antropologia nage, beh, antropologia da un po' come scontato che si sappia che cos'è, ecco, è un po', possiamo dire, beh, è un'impresa intanto, per questo può essere importante, è un'impresa, diciamo, è una disciplina che nasce in Europa e nasce dalla osservazione dell'altro, ecco, qui parliamo di altro, ecco, quindi, diciamo che soprattutto così nella seconda metà del XVIII secolo e poi si prosegue in maniera sempre più sistematica, l'Europa viene a conoscenza, ecco, comincia a mettere insieme una conoscenza sistematizzata di popolazioni, ecco, diciamo, di luoghi diversi, no, attraverso le, attraverso le grandi viaggi di esplorazione, ecco, fratto, diciamo, il più famoso dei proto-antropologi, proto-etnografi è Capitano Cook, lo dico perché ci torneremo brevemente, ecco, attraverso questi viaggi della seconda metà del Settecento si accumula molto materiale su quelli che erano, diciamo, chiamiamoli così, gli usi e i costumi molto diversi, ecco, di popolazioni molto diverse, quindi comincia a nascere questa nuova disciplina che si chiama etnografia, qualcuno la chiama etnologia, quindi studio, diciamo, degli altri popoli, antropologia, quindi studio dell'uomo inteso come essere umano. Ecco, quello che si può dire è che nel 1850, magari possiamo anche passare alla slide successiva, così vediamo questo antropologo, ecco, Serge George Fraser, che era un classicista, ecco, di formazione, che diventa sempre più interessato a questo materiale, ecco, che è stato accumulato da, non proprio da etnologi di professione, ecco, sovente, ma da, appunto, da esploratore, navigatore, amministratori coloniali, e così via, e di fatto appunto si converte all'antropologia, e il suo lavoro più famoso, ecco, pubblicato per la prima volta in due volumi nel 1890, è questo libro che qualcuno di voi sicuramente avrà sentito nominare, che è Il ramo d'oro, ecco, purtroppo, insomma, sarebbe lungo a dire come mai si intitola Il ramo d'oro. Di fatto, diciamo che George Fraser, James George Fraser, cerca, ecco, di, magari possiamo tornare alla slide precedente, ecco, così lo vediamo, di fatto cerca di gettare luce su un costume enigmatico documentato per l'età romana, che era sostanzialmente la presenza di, così, la Girazzi in un bosco sacro vicino al lago di Nemi, di un, di una strana persona, ecco, cioè di un, di un sacerdote, ecco, del sacerdote della, di una strana persona che si girava per i boschi timoroso di essere, come dire, assalito da qualcuno che voleva prenderne il posto. Era, come dire, era un sacerdote, come dice Fraser, ecco, era un sacerdote e un assassino. Cioè, in pratica, c'era questa, questa figura di, di sacerdote che presidiava il, che presidiava il tempio di Diana e sarebbe stato sfidato da qualcuno che voleva prenderne il posto e se questo qualcuno riusciva a ucciderno, quindi a diventarne, come dire, l'uccisore diventava un assassino ne prendeva il posto. E, come mai, era una cosa che, come dire, esisteva in età romana, ma sostanzialmente non è che desse molto senso, forse ai romani stessi, chi lo sa, e certamente a coloro che l'hanno visto attestato. Allora, attraverso, ovviamente, un peripro, ecco, un giro del mondo, Fraser, comincia a comprare questo strano, enigmatico costume con altri costumi simili, ecco, di divinità morenti, divinità che si sacrificano anche, e la sua spiegazione era che queste morti, ecco, morti rituali, se vogliamo, che questo morire ritualmente era, come dire, era una morte rituale che era necessaria per riavviare il ciclo di fecondità della natura. Ecco, fra l'altro, possiamo dire, è stato un libro molto contestato, cioè, così, insomma, che è stato bloccato, quasi censurato, perché la divinità morente per eccellenza era Gesù Cristo, ecco, capite, quindi, ma di fatto che poi con le lezioni seguenti è diventato poi un libro su magia, su magia, religione, ecco, non sto a dire, però, ho detto questo per una ragione, perché Fraser, tutto sommato, era un classicista, il suo lavoro ha influenzato anche gli storici dell'antichità, gli storici dell'antichità andavano alla ricerca di materiale teografico per fare più o meno quello che ha fatto Fraser. Quindi possiamo dire che fino al 1900, possiamo dire, fino alla Seconda Guerra Mondiale, c'è stata una vicinanza soprattutto tra studi classici, storia antica e quella che potremmo dire la nascente antropologia, che proprio, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento cominciava a trovare una sua istituzionalizzazione nelle università britanniche, addirittura anche in Italia, insomma, poi in molte università, ecco, 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 se noi passiamo, ecco, il 1922 io l'ho indicato come un anno di transizione, perché? Perché appare, ecco, possiamo vederla nella slide seguente, appare un lavoro di questo antropologo polacco, naturalizzato, britannico, che, come vedete, ha un titolo che riecheggia, ecco, un titolo classicizzante, gli Ergonauti del Pacifico Occidentale, lo potete vedere, però, se andiamo alla slide seguente, andiamo con un lavoro molto diverso, perché? Perché, qui vediamo un Malinowski 35enne, mi ha stupito, perché veramente dimostra qualche cosa di più, ecco, ecco, Malinowski per ragioni legate anche alla Seconda Guerra Mondiale, lui si trovava in Australia, ha trovato, come dire, già voleva condurre ricerche etnografiche in Melanesia e riesce di fatto ad essere confinato in questo arcipelago delle isole Trobrian che si trova, diciamo, a largo della Nuova Guinea e, come vedete, questa è un po' l'immagine classica di una nuova figura di antropologo. Lo dico perché, insomma, sarà un aneddoto, ma si dice che quando è stato chiesto a James George Fraser se lui, come dire, avesse vissuto, avesse visto da vicino i selvaggi, ecco, di cui si occupava l'antropologia, ecco, più o meno popolazioni come queste, James Fraser ha detto, no, Dio scampi, ecco, io, come dire, mi metto a tavolino, ecco, lui era un antropologo da tavolino o, come si dice, in inglese armchair, antropologo, cioè da poltona, quindi noi possiamo immaginarlo nel suo studio a Cambridge, con la pipa, che legge questi resoconti etnografici e, come dire, e produce questo enorme lavoro comparativo in 12 volumi, ecco, poi ridotti nel 22 a un'edizione, come dire, abridged, quindi corta di sole mille pagine, quella che noi possiamo leggere in italiano, ecco, però Fraser era, come dire, un antropologo da tavolino o, se vogliamo, anche da biblioteca. Con Marinosky, quindi, con questa ricerca che viene condotta durante gli anni, proprio durante gli anni della guerra mondiale, quasi per caso, perché Marinosky, come dire, era cittadino austriaco, si trovava in Australia e praticamente anziché finire in campo di concentramento gli viene concesso di condurre questa ricerca, semplifico, ma non è proprio così, ma insomma abbastanza. Ecco, l'antropologo, lo vedete, questa immagine è importante perché l'antropologo anziché legge le lavori scritti da altri e, come dire, sistematizzarli, compararli e così via, vedete, diventa lui stesso, come dire, va sul campo, quindi si costruisce veramente una, come dire, nasce, nasce, come dire, un'antropologia di terreno. Diciamo, da Marinosky in poi, per essere un vero antropologo, bisogna andare sul terreno, bisogna andare lontano, bisogna andare tra queste popolazioni lontane e diverse. Questo cosa significa? Che il lavoro da tavolino, che ovviamente è essenziale se uno vuole fare un lavoro di antropologia storica, viene svalutato, possiamo dire così, il vero antropologo è colui che va sul terreno, la vera antropologia è quella che si costruisce acquisendo delle informazioni direttamente dai locali. Questo cosa significa? Che dal 22 in avanti i rapporti tra antropologia e storia si fanno difficili. Se prima c'era stata appunto una vicinanza, diciamo, dal 1850 al 22, tra il 22 e il 50, c'è proprio, diciamo, il periodo tra le due guerre, c'è il trionfo di un'antropologia che privilegia, come si suol dire, l'indagine sincronica. In altre parole, l'antropologo va, vede, osserva, scrive raccontando quello che ha visto. Vengono messe in discussione, come dire, le teorizzazioni di lunghissimo periodo degli antropologi precedenti, che avevano cercato di tracciare l'evoluzione umana dai primordi, che ovviamente i primordi erano un po' rappresentati da, come dire, dalle popolazioni primitive, ecco, Fino ad oggi, se fino ad allora, ecco, diciamo, e quindi si privilegia, come dire, l'indagine sincronica. quindi ciò che l'antropologo vede, il traffico si dice anziché, come dire, gettarci in speculazione su lontanissimi passati, perché poi l'idea era questa, in sostanza, che degli etnografi, come dire, osservatori, i famosi esploratori, missionari, funzionari coloniali, avevano osservato popolazioni come quelle che abbiamo visto prima, le avevano descritte e si dava più o meno come scontato che nel 1850, poniamo, i modi di vita che erano ancora osservabili lontano, in, come dire, in località, in regioni, in paesi lontani dall'Europa o se vogliamo dall'America settentrionale, diciamo, dall'Europa, fossero simili, comparabili a quella dei nostri lontanissimi antenati. E quindi ciò che veniva riferito riguardo ai modi di vivere, alle tecnologie, ma anche alle credenze di quelle popolazioni, si pensava che potessero essere state le credenze ecco, dei nostri lontanissimi antenati. Quindi c'era una specie di compasso, se vogliamo, ecco, quindi veniva ribaltato, come dire, su un terreno, veniva proiettato ecco sul passato ciò che veniva osservato contemporaneamente nel 1850 e nel 1870 e così via presso popolazioni lontane. Quindi in qualche maniera diciamo c'era questo sistema quasi di allontanamento. non so se è molto chiaro ma insomma è un po' complicato che in genere ci vogliono ecco, la cosa è questa però, che con il 1850 alcuni, come dire, certamente, come dire, basarsi molto sulla ricerca sul terreno, sì, però con il 1950 cominciano a emergere delle crepe e quindi sono alcuni antropologi che dicono attenzione, ecco, per esempio si riteneva che fosse impossibile ricostruire una storia che non fosse europea perché mancava la documentazione. Evidentemente ci si comincia si comincia a comprendere come invece questa documentazione esista e documentazione che permette magari attraverso documentazione magari prodotta da europei quindi con occhio europeo ma che se letta in maniera diversa poteva permettere di costruire ecco, questo lo vedremo più avanti la storia degli altri la storia dell'altro. Ecco, quindi si comincia a dire ma perché gli antropologi quando vanno sul terreno non cominciano a verificare che non esista una documentazione che permette di ricostruire come dire una storia africana una storia che so io dell'America Latina ecco per esempio di quella che è diventata l'America Latina una storia dell'Oceania perché no? Siamo sicuri che sia impossibile si è dato come scontato che non era possibile invece si comincia a scoprire che è possibile che addirittura studiando opportunamente la trasmissione orale si può andare indietro letteralmente di secoli ecco quindi diciamo che dal 1968 al 1990 la crisi ecco diciamo stessa dell'antropologia socioculturale favorisce una rivalutazione della storia quindi ci sono gli storici che guardano agli archivi perché no e al tempo stesso però c'è anche una crisi nella c'è anche una crisi direi nella storia quindi c'è l'affermazione ecco diciamo di una nuova storia che adesso non è più tanto nuova però possiamo dire che dalla metà del secolo c'è l'affermarsi come dire c'è un'egemonia della scuola delle anal studiosi come ecco per esempio studiosi come Fernand Brodel ecco ma anche come di di un antropologo di uno storico che andiamo a vedere presto anche nella slide ecco sta di fatto che tra 1968 e 1990 che sono poi gli anni in cui io stesso ho condotto la mia ricerca se avete visto il mio libro è stato pubblicato tra tradizione inglese e tradizione italiana 1989 1990 chiude se vogliamo anche un certo un certo periodo ecco una periodizzazione di cui mi scuso ecco molto grossolana ecco ma veramente insomma il tempo è super tirano ecco questo di fatto ecco se vogliamo possiamo passare alla slide seguente perché questo è un lavoro condotto da due antropologi diciamo americani ma in realtà Eric Wolf Eric Wolf è nato era un austriaco ecco ebreo austriaco che è stato costretto quindi nato non ricordo bene negli anni 20 ecco comunque nel 23 è costretto da ragazzino ecco a lasciare la patria e finirà in America quindi si formerà come antropologo in America e negli anni fine anni 50 inizio anni 60 pensa di condurre di ritornare diciamo in Europa e di condurre una ricerca in area alpina condurre una ricerca in area alpina area alpina che lui aveva conosciuto come villeggiante sostanzialmente da ragazzino e quindi conduce questa ricerca e poi un suo allievo questo John Cole tornerà nella alta Val di Non come vedete appunto che il nome latino era Naunia ecco quindi è usato un po' diplomaticamente ecco perché Val di Non è il nome italiano non perché è il nome tedesco una valle che ha questa peculiarità è in Trentino ma è tagliata diciamo a metà cioè c'è una bassa valle di lingua ladina ecco semplificando un po' quindi la romanza e un'altra valle invece di lingua germanica tirolese e allora che cosa fanno? studiano ecco questa frontiera nascosta concentrandoci in particolare su due villaggi adiacente uno immediatamente al di qua del confine linguistico etno-linguistico uno immediatamente al di là è uno studio che è diventato classico ecco quello che lo rende è anche un lavoro pionieristico e poi è un lavoro che poi è stato di grande ispirazione ovviamente per me io ho pensato di studiare un altro confine linguistico in Alta Varsesia ecco tra come dire tra i Valseri coloro che stanno lieremente diciamo a valle dei Valseri in Varsesia quindi non so per chi la conosce e parecchi di voi la conosceranno appunto so per esempio Riva Valdobias sono diventati un comune unico fra l'altro ecco detto per gli intimi che conoscono Alta Valle ad ogni modo ecco se passiamo alla slide seguente ecco come detto ho pensato di proporvi un passo che mi sembra significativo il libro tenete conto del 74 quindi pochi anni prima che io decidessi di indirizzarmi ecco anziché verso terre lontane come abbiamo detto il centro Africa Melanesia dove era stato Malinowski indonesi eccetera ecco tenete conto questo libro corposo di Korle Wolf ha una parte etnografica una parte in cui i due autori raccontano che cosa hanno visto ci sono le fotografie ecco ma è un libro che è preceduto quindi da 170 pagine da 4 capitoli ecco di tipo storico ecco notate questo nel 1974 per degli antropologi era ancora necessario scrivere passi di questo genere il lettore scoprirà presto che pur avendo noi promesso uno studio di due comunità studio etnografico abbiamo collegato questo studio nel quadro di una storia più generale notate se vorrà evitare di essere appesantito da questo interesse per il passato potrà saltare direttamente al capitolo 6 pensiamo tuttavia che un certo un certo tipo di storia sia essenziale al nostro scopo che è quello di spiegare il piccolo universo montano dell'alta valinon a naunia non ci interessa una storia concepita come una monotona serie di avvenimenti bensì una storia di strutture rilevanti per la naunia nel loro svolgersi nel tempo e nelle loro relazioni reciproche ma questo mi sembra significativo perché siamo nel 74 quindi un antropologo che volesse giustificare il proprio libro o se vogliamo uno studente quale ero io allora che volesse giustificare la sua ricerca beh si faceva qualche cosa che non era così ovvio quindi io quando ho detto ma vorrei fare una ricerca nell'alta Valsesia vorrei ispirarmi a una ricerca scritta da questo antropologo Wolff era molto autorevole allora evidentemente scritta da questi antropologi quindi in alta Valdinò beh io voglio fare questo beh ho dovuto veramente dire faccio qualche cosa che non era percepito allora da qualcuno non è forse neppure percepito oggi come è veramente antropologico volevo fare qualcosa volevo fare qualcosa di ibridi si sa che tutti i lavori di ibridazione sono visti con sospetto ecco quindi vedete studiare in passato necessità come avevano sostenuto molti antropologi alcuni antropologi dal 1950 in avanti oppure semplicemente un appesantimento ecco poi vedete anche che Cole e Wolff dicono noi vogliamo siamo interessati a un certo tipo di storia notate non come una monotona serie di avvenimenti quindi loro prendevano posizioni noi non vogliamo quindi ricostruire la storia dell'anaunia come dire un avvenimento dopo la no vogliamo studiare delle strutture qui si vede l'impostazione che si suol definire analista o analistica e quindi che si ispira alla storia delle anali io direi di andare alla prossima slide perché la prossima slide ci porta a quello che è stato uno dei più autorevoli e famosi rappresentanti della scuola delle anali diciamo della seconda o forse della terza generazione ecco diciamo c'è stata una prima generazione insomma quella di Bloch di di Sienfebvre pre-anal potremmo dire quindi siamo a fine degli anni 30 addirittura poi fino agli anni 50 poi c'è stato il dominio di Fernand Brodele poi sono arrivati queste figure della generazione di L'Urguardo di Rì ma ho pensato di citare questo libro perché è stato veramente un caso un caso editoriale notate che il libro esce nel 75 e il libro precedente nel 74 sono libri proprio coevi quasi gemelli potremmo dire questo libro ha avuto un successo straordinario è stato tradotto nel 77 qui voi vedete la copertina dell'edizione Saggiatore in realtà la prima edizione era un po' diversa anche il titolo era Montiù Paese Occitano ecco mi sembra beh io quello che posso ricordarmi perché ho una certa età è che andando nelle librerie ma anche per esempio so librerie Giovannacci nelle nostre parti ecco per dirlo librerie non so di Vercelli no c'erano delle pile io posso proprio pile di Montaill l'hanno letto tutti in Montaill cos'era Montaill era come vedete era un libro di etnografia storica c'era un documento eccezionale era come dire una specie di un'inchiesta inquisitoriale condotta diciamo in questi anni perché c'era c'era delle presenze catare e è arrivato un inquisitore e tutti gli abitanti di questo paesino che adesso conta veramente poche decine di abitanti erano state più o meno interrogate e durante questi interrogatori durante questi interrogatori era stato come dire è venuto fuori non soltanto diciamo quelle parti che interessavano magari più da vicino l'inquisitore quindi quali che erano le loro credenze le loro visioni del mondo e così via ma durante le loro deposizioni tutti questi abitanti raccontavano eravamo in una cucina stavamo mangiando stavamo cucinando questo quando è arrivato tal dei tali che ci ha raccontato questo ci ha chiesto quest'altro viene fuori veramente di tutto è un documento eccezionale indubbiamente ma loro la diré con molta sensibilità anche se poi sono delle polemiche sull'uso che è stato fatto eccetera dibattiti diciamo di più riesce veramente a scrivere questo adesso ce l'avrei lì potrei anche mostrarvelo diciamo questo grosso volume di molte centinaia di pagine in cui lui dice io ho cercato di fare come un etnogo quindi lui ricostruisce intanto il come dire il paesaggio il contesto e poi ci dice il ciclo stagionale il ciclo stagionale delle coltivazioni il come dire il ciclo liturgico la posizione della donna cosa viene fuori ecco come hanno visto le donne gli uomini i bambini i giovani gli invalidi e così via e quindi lui ci dà la cultura materiale di che oggetti quindi lui riesce a ricostruire con molta sicuramente con molta abilità quella che era come dire la vita in un villaggio medievale quindi tra fine 2 e inizio 300 lui fa un lavoro di etnografia storica libro veramente molto famoso ecco se facciamo un salto in avanti arriviamo a un altro libro molto famoso ecco vedete qui Carlo Ginzburg ecco fra l'altro io qui ho pensato di mettere la copertina della seconda edizione che è un'edizione recentissima del 2019 ecco e anche specificare che abbiamo Peter Bruegel la mia titola un particolare perché? perché Peter Bruegel è come dire è colui che viene invocato sovente come colui che ha saputo rappresentare visivamente ecco diciamo la cultura popolare carnevale e così via insomma i ritueli la cultura popolare diciamo diciamo della della prima età moderna ecco e Ginzburg ha scelto ecco questa copertina presumo che è stato lui e questo è stato un altro caso editoriale credo che non abbia venduto esattamente come Montaill ma siamo lì un libro di straordinarissima non so mi ricordo ecco l'altra testimonianza che allora c'era è finito anche così con storie a fumetti colti ecco un film è stato fatto recentemente un film che si chiama Menocchio Menocchio cioè Domenico Scardella è il protagonista di questo di questo libro che si chiama Il formaggio Iverni perché perché questo questo mugnaio ecco della fine del Cinquecento ecco diciamo che viene la seconda metà del Cinquecento aveva delle strane idee ecco lui raccontava ai suoi compaesani in questa località che si chiama Moreale Valcellina nelle Friuli che il mondo in realtà non era nato come si leggeva nella Bibbia no era nato da come dire da una situazione di caos più o meno c'erano c'erano i quattro elementi acqua fuoco terra che si erano più o meno coagulati si erano coagulati come più o meno come si coagula il formaggio a un certo punto da questo formaggio erano usciti dei ve no erano usciti un po' come dal formaggio escono i vermi così da questo impasto primordiale da questo coagulo primordiale erano usciti gli angeli poi ci sono varie versioni e come dire il più perfetto di questi angeli era Dio qualcosa del genere ora evidentemente questo comincia a trappelare allora gli inquisitori gli dicono vieni un po' qua e allora gli chiedono e allora è interessante perché anche qui diciamo da queste da questi da questi da questi interrogatori no per cui in genere c'è interrogato insomma da questi da questi interrogatori emergono emergono delle idee emerge una cosmologia una cosmologia eretica sì ma strana veramente ecco la tesi poi la tesi di Carlo Ginz perché in realtà Menocchio che sapeva leggere era se vogliamo un po' un piccolo intellettuale di paese ecco però al tempo stesso come dire avesse letto criticamente queste sue fonti attraverso una griglia che gli veniva dal suo radicamento in una cultura popolare come dire plurisecolare forse anche plurimillenare ecco e quindi quella cultura che si ritrova per certi versi anche nei dipinti di Bruegger ecco l'associazione ecco questo è interessante intanto perché questo ci dice come gli antropologi scusate gli storici che hanno fatto antropologia storica l'abbiano fatto arrivando attraverso certe fonti e una fonte privilegiata sono le fonti giudiziarie come dire c'è un saggio famoso di Ginzburg che si chiama penso l'antropologo e l'inquisitore l'etnografo e l'inquisitore perché perché in sostanza l'antropologo avete visto Malinowski prima no che cosa faceva Malinowski chiedeva ai trobriandesi gli interrogava ecco così ecco certamente in maniera se vogliamo meno insomma se vogliamo meno pesante ecco però l'inquisitore alla fine interrogava e otteneva delle risposte ecco se noi riusciamo come dire a passare attraverso molti filtri ecco che ci separano da quello che è stato detto noi riusciamo ad avere qualcosa che ci permette di arrivare comunque a gettare luce ecco su che cosa anche questo mi sembra abbastanza importante magari passiamo alla prossima slide con un po' lento ma spero di farci ecco quello che volevo dire è questo allora noi ecco antropologia storia studio dell'altro è quello che mi è stato questo di dire oggi era di parlare un po' così dello studio dell'altro allora l'antropologia ecco diciamo l'antropologia del periodo tra le due guerre mondiali abbiamo visto Malinowski ma altri antropologi o antropologhe in particolare queste due antropologhe molto famose Margaret Mead credo sia molto famosa ma molto influente anche Ruth Benedict di fatto attraverso come dire i loro libri i loro racconti magari anche le loro fotografie ci raccontano di modi diversi di per esempio Margaret Mead che nel 29 pubblica questo volume sull'adolescenza in Samoa racconta al suo pubblico americano e poi al suo pubblico euroamericano occidentale che lei ha studiato ha visto ha vissuto con delle adolescenti in queste isole polinesiane di Samoa e questi adolescenti non soffrivano di quei malesseri di quelle come dire di quelle inibizioni che rendevano così difficile l'adolescenza in America o possiamo dire in occidente no perché perché la cultura Samoana se vogliamo la società Samoana era molto più come dire vogliamo dire permissiva no diciamo non aveva ecco diciamo quei vincoli quelle repressioni ecco che rendevano così difficile la vita adolescenti e Margaret Mead ha avuto una straordinaria influenza potremmo dire sulla puericoltura sulla visione come allevare i bambini dalla prima come dire dalla prima età fino alla fine dell'adolescenza quindi ragazzini quindi Margaret Mead dice ci sono modi altri per esempio nel 28 direi nel 27 Broning Sarmalinowski scrive il suo libro più famoso che non è tanto Argonauti ma per il pubblico era sesso e repressione sessuale nei mari del sud ecco in cui lui dice anche lui dice attenzione noi siamo viviamo in una cultura diciamo in una società che reprime gli istinti sessuali che ecco Ruth Benedict ecco nasce il relativismo culturale quindi notate che da una parte quindi se noi vediamo questa fotografia di Malinowski sembra un po' come dire l'antropologo un po' coloniale colonialista che va ecco ma in realtà l'immagine che alla fine viene fuori è quella che ci sono tanti modi come diceva Montaigne ciò che è giusto diciamo al di qua dei Pirenei non è più giusto se andiamo al di là dei Pirenei ecco quindi nasce il relativismo culturale però ecco c'è un'alterità che è un'alterità lontana ci siamo noi un noi magari non troppo analizzato ci siamo noi ci sono loro loro sono diversi possono comunque insegnarci possono darci delle lezioni su come educare dei bambini per esempio su come non le prime delle adolescenti ecco quello che volevo dire è che l'antropologia come come soprattutto ecco viene fatta da da un Ginzburg ecco è un po' diverso perché avete visto si parla di gente comune a Montaigne si parla di Mugnai di Mugnai così nel Friuli del Cinquecento si parla di persone che sovente non sapevano scrivere ma in realtà per esempio Domenico Scardella detto Menocchio sapeva scrivere sì noi che cosa abbiamo in genere delle lettere di supplica che lui mandava agli inquisitori dicendo che si era un po' ravedute un po' no così via ma di fatto sono persone che non hanno potuto scrivere la propria storia la storia è stata scritta da una certa Europa quindi dall'Europa egemone quindi possiamo dire che le guardie Ginzburg eccetera cercano di scrivere invece valendosi di documentazione che vanno appunto dai documenti dell'inquisizione ecco diciamo dai verbali fino lo solo studio della cultura materiale delle tecniche eccetera così cercano di scrivere la storia delle classi e delle categorie subalterne perché è vero che la storia è stata scritta dalle classi subalterne ma principalmente da alcuni uomini c'è qualche qualche eccezione che tira quindi ecco si cerca di ecco la cultura popolare si entra nella sfera la vita quotidiana la sfera dell'intimità e così via quindi questa è la storia scritta secondo me ecco questo è già un altro ecco ma è un altro tra noi quindi c'è una rivalutazione degli studi di folclore ecco per dire ecco un'altra tappa ecco scusate sto andando veramente ultra veloce mi spiace ma insomma ecco la storia degli altri questa è una cosa diversa se andiamo avanti noi scopriremo finalmente anche possiamo vedere una fotografia di quell'Eric Wolf che ho menzionato come pioniere ecco diciamo dell'antropologia alpina come personalmente ispiratore ecco ecco Eric Wolf che aveva fra l'altro iniziato come studioso di America Latina perché tenete conto che l'America Latina comunque andava andava bene perché era sufficientemente esotica da un punto di vista euroamericano no per fare ricerche ecco tenete presente come vi dicevo no che l'antropologia che si vuole come disciplina dello studio dell'alterità lontana questo significa che chi magari volesse studiare qualcosa di più vicino come aveva fatto diciamo come ho fatto io per esempio bisognava giustificarlo no e a volte si tendeva anche un po' esoticare scusate esotizzare il vicino comunque notate che Eric Wolf che noi abbiamo conosciuto come studioso dell'Alta Val di Non non troppi anni dopo pubblica questo libro che si chiama l'Europa e i popoli senza i popoli senza storio e voi vedete l'edizione del mulino edizione italiana del 90 che insomma è piuttosto austera no se vediamo una delle edizioni inglesi vedete Europe and the people ecco vedete che vedete invece il colonialista è con noi e gli altri l'Europa e i popoli senza storia perché perché quello che cerca di contrastare direi tutta una linea di cui Eric Wolf è stato sicuramente da parte antropologica uno dei pionieri assoluti è quello che porta poi alla storia globale di cui molto insomma adesso si sente parlare molto insomma che cosa cerca di dimostrare perché ovviamente Hegel aveva più o meno ma sostanzialmente diceva chi è che fa la storia siamo noi europei poi ci sono gli altri che al limite partecipano un po' alla storia che noi forgiamo ma ci partecipano passivamente ecco sostanzialmente come colonizzati ecco come subalterni se vogliamo usare questa invece Eric Wolf cerca di dimostrare che in questo lungo libro che in realtà anche gli altri hanno avuto una storia non solo hanno avuto la loro storia ma magari attraverso delle relazioni difficili anche di come anche di resistenza per esempio ci sono gli studi anche stesso Wolf ecco quando gli spagnoli cercano di salire sulle ande non è che ci riescono sempre e facilmente ecco c'è una resistenza ecco sta di fatto quindi che tutti partecipano hanno un ruolo attivo una quella che si chiama una agency nella costruzione di una storia globale non so se posso andare avanti c'è qualcosa ecco mi dica ecco storia globale quindi una storia che comincia ad essere decentralizzata prima c'era un solo centro l'Europa poi ecco non si mette in discussione che abbia avuto un'importanza come dire straordinaria nel bene e nel male ecco però si comincia a decentralizzare la storia ecco e se andiamo ancora avanti vediamo ecco che ecco questo è un altro antropologo Marshall Salins nato nel 1930 ha parlato padre anche di uno storico famoso e lui scrive tra le moltissime cose che ha scritto pubblica nell'87 no scusate c'è un errore 85 scusatemi c'è un errore di slide può essere corretta Island Jovistre dell'85 non può essere pubblica questo volume che viene tradotto come vedete sollecitamente da Einaudi Isola di Storia e voi vedete appunto il protagonista principale di questo libro è una raccolta di saggi ma il saggio più famoso è il capitano James Cook o The Dying God ecco ci torniamo ecco un po' a Fraser tenete conto che questo saggio centrale viene proprio pronunciato penso inizio anni 80 come la Fraser Lecture cioè queste letture queste conferenze che ogni anno dagli anni 20 penso così anni 30 venivano tenute in onore di Fraser che essendo morto nel 41 ha avuto l'onore di poter assistere a delle lectures che ogni anno venivano tenute in suo onore poi in sua memoria un onore e vedete appunto che il capitano Cook ecco arriva alle isole alle Hawaii scopre le Hawaii e come potete vedere qua viene accolto come una divinità vedete che si inchinano perché viene accolto come una divinità ma qualche tempo dopo viene ucciso ecco c'è questa immagine che è stata proposta dai nardi in copertina e questa invece è un'immagine che ho ritrovato ecco e vedete ecco Dying God e forse possiamo andare anche alla slide successiva ecco perché vedete questa è una sorta di mini mini sintesi di possiamo magari leggerla così faceva più in fretta con il più famoso influente di questi saggi Sanis ripercorre e analizza le vicende che portano alla morte violenta del capitano Cook rileggendo la documentazione cioè perché c'è documentazione qual è questa documentazione sono principalmente come dire documentazione prodotta da chi? prodotta da coloro che con Cook avevano viaggiato e poi ovviamente si accumula poi documentazione secondaria terziaria e così via e comunque ci sono queste cronati di questa cosa strana perché perché il capitano Cook era adesso non ricordo perfettamente era arrivato all'Isra Hawaii e viene accolto come un dio e si fa una grande festa a lui e a coloro che sono con lui e ovviamente questo viene riportato nei diari di bordo se non che poi il capitano Cook si allontana poi c'è una tempesta che praticamente costringe Cook e i suoi a tornare e a questo punto da quella che era stata una come dire da quella che era stata una accoglienza come la si riserva agli dei c'è un'accoglienza come si riserva a dei nemici sta di fatto il capitano Cook viene ucciso e questo non viene allora come mai e quello che propone Sanes è questo perché il capitano Cook per delle strane congiunture astrali era arrivato proprio quando si stava celebrando un rituale in onore dell'arrivo periodico ogni anno di una divinità del dio Lono arrivava quindi si vede questa volta che non arriva più soltanto diciamo evocato ritualmente ma si vede arrivare anche qui ci sono dei molti dibattiti gli hawaiani vedono arrivare vedono arrivare queste persone strane bianche non su queste navi e dicono è arrivato l'Ono quindi lo come dire lo accolgono come un dio se non che poi non era previsto che lui tornasse nel momento in cui c'è questa infrazione diciamo di questo ciclo diciamo rituale allora questo viene percepito come un pericolo e semplificando ultra al massimo si passa quindi dalla divinizzazione all'uccisione quindi ecco il dying god il dio che viene ucciso va bene allora ecco vedete qui ho preso da un articolo da un mini articolo che potete trovare di Dino Palumbo che è uno dei più noti antropologi italiani oggi che volendo in una pagina e mezza sintetizzare il rapporto tra antropologia e storia parla di di Sallis e dice egli ha mostrato come quelli che nella tradizione occidentale chiamiamo eventi storia benemenziale sono in realtà leggibili in termini molto diversi a seconda delle coordinate concettuali ideologiche degli attori sociali che partecipano a determinati scenari di interazione ecco vedete l'arrivo di Cook può essere visto come la scoperta di un ultimo nuovo mondo infatti noi diciamo le Hawaii sono state scoperte dal capitano Cook per noi è una scoperta ma se noi se noi lo guardiamo con altri occhi ecco può come dire può essere iscritto in una struttura di tipo mitico religioso che identificando Cook ad una divinità locale cerca di inquadrare in una griglia concettuale sconosciuta una situazione inattesa ecco potevano attendersi che arrivasse l'ONU non potevano attendersi che tornasse indietro perché diventava una minaccia al ciclico ritorno della fecondità della Terra ecco quindi ecco quello che quello che lancia c'è una famosa formula che viene lanciata da Salis che notate rilegge la documentazione settecentesca attraverso le sue conoscenze esempio lui conosce certi termini sa come dire anche dalle sue conoscenze di prima mano da quello che aveva accumulato l'antropologia oceanistica no che cosa significava in certi termini e così via lui dice appunto c'è questa forma differenti culture diverse storicità diverse different cultures different historicities ecco quindi lui ci dice attenzione la storia esemplare diciamo delle vicende poi tragiche del capitano Cook ci fanno capire che ci sono modi diversi di guardare per esempio ecco di pensare il tempo non lo pensiamo come lineare ci sono per questo è più noto diversi modi di di vedere le relazioni tra presente e passato per esempio ecco possiamo andare avanti ecco io non vorrei insistere troppo sulle storicità insidiose ecco però vorrei notare che un antropologo molto autorevole oggi Charles Stewart un antropologo americano che insegna a Londra proprio facendo riferimento a Salins ha pensato come dire ha scritto questo libro di storici di antropologi ecco è un articolo molto interessante però si delinea ecco veramente una contrapposizione lo vedete ho citato la frase inglese storici e antropologi sono spesso cross purposes vuol dire che si scontrano proprio vengono sulla questione della verità questo è importante perché appunto adesso avevo una delle slide precedenti avevo fatto notare come tra 1990 e 2000 arrivano i eventi del postmodernismo quindi il concetto di verità il concetto di realtà stessa vengono messe in discussione perché teniamo conto che la storia classicamente si era proposta come quella disciplina adesso ritornata molto di moda con le fake news se vogliamo questo problema disciplina che riusciva andare oltre al mito attraverso la documentazione d'archivio queste cose che si sanno più o meno il postmodernismo mette molto in dubbio queste cose ecco sta di fatto però che io semplicemente mi sono permesso anche in piccolo articolo che ho scritto insomma di stare un po' attenti perché tutto sommato il postmodernismo si è sciolto come la neve al sole ecco certamente perché si pensava di fatto adesso io vedo non sono studenti non sono neppure più che è esistito il postmodernismo abbastanza curioso io chiedo un cosiddetto di magistrale ma vi dice qualche cosa poco filosofi magari agliotard così insomma ma in genere né tra antropologi né negli storici il postmodernismo ha lasciato però chiaramente delle tracce tracce buone magari qualcuna un po' troppo perché perché evidentemente questo può significare che se voi ci pensate anche non so un antropologo come Wolfo come fate io stesso andremo agli archivi no e l'archivio è diventato talvolta non solo metaforicamente è diventato veramente un luogo in cui ci si incontrava io andavo che so io biblioteca reale archivio di stato così e trovavo degli storici e addirittura si è formata direi tra come ho cercato di scrivere si è formata una sorta di popolazione autotona o comunque perché come dire sono due popolazioni diverse che si sono in qualche maniera mescolate io per esempio non so insegno antropologia ma sono dei momenti qualcuno per esempio pensa che sia uno storico ecco per dire quindi il mio libro in inglese è stato pubblicato in una collana storica l'italiano è stato messo in un altro ma insomma erano come dire adesso ovviamente diventa più complicato perché si dice no gli storici se ne stiano a cercare la verità se proprio ne hanno voglia noi invece dobbiamo cercare delle verità diverse e oltretutto anche questo è un problema perché significa che bisogna andare a studiare nuovamente solo popolazioni esotiche invece gli antropologi non dovrebbero più studiare popolazioni diciamo ad esempio con l'antropologia europea eccetera diventa qualche cosa che viene visto con sospetto o veniva visto con sospetto c'è il rischio di tornare a esotizzare stuart ecco peraltro ha studiato come dire ha fatto studi in grecia però però secondo me esotizza un po' perché per essere accettati come antropologi bisogna essere tornare un po' l'esotismo se non che adesso ci troviamo in una situazione stranissima per cui fare delle ricerche chiamiamole esotiche così è diventato impossibile perché c'è un grande rilancio dell'antropologia cosiddetta at home domestica è uno dei paradossi di me che sono venuti bene allora io andrei a chiudere insomma sono quasi nei tempi pensavo peggio ecco andrei a chiudere perché qui si parla anche qui insomma è una didattica della storia io qui vi faccio vi mostro un nostro un collega ecco più giovane c'è una curiosità dunque lui si chiama Javier Gonzales ci arriviamo Javier Gonzales è arrivato bambino in Italia ha studiato in Italia se ne è arrivato in Italia ha fatto il dottorato però al momento insegna in Ecuador però ha passato la maggior parte della sua vita a Santiago visto che insomma mi permetto di dirlo sempre perché siamo nella zona bielese e valsese non oserei parlare ma insomma è curioso questa cosa l'ho visto io in teleconferenza ecco ci arriviamo subito perché perché vedete questo articolo questo titolo che viene da una relazione presentata da Javier Gonzales e da una sua collega dell'università di questa università nazionale di educazione quindi diciamo di scienza dell'educazione ecco di Cuenca in Ecuador vedete si intitolava historias alternativas ecco lo spagnolo ci aiuta non ci costringe a fare storia storia e così ecco come insegnare la storia perché abbiamo già visto che ci si è resi conto che c'era un'alterità modi diversi di di vedere le cose però non si assegnava non so ai Samoani e ai Torbriandesi una storia si pensava che fossero rimasti così da sempre invece no si passa alla storia degli altri anche gli altri hanno avuto una storia anche gli altri hanno contribuito a costruire la storia tutta non la nostra storia la nostra storia è stata costruita anche da attraverso modalità poi poi ci sono altri modi di vedere la storia per cui uno poi dice ma certo però possiamo pensare ci sono altri modi di concepire il tempo questo è interessante per noi ecco questo è interessante perché voglio dire Javier Gongiari è stato qui fino a pochi anni fa avevamo anche collaborato insieme fatto anche parecchie cose insieme poi ho avuto questo posto in Ecuador e è andato in Ecuador come si studia la storia là e questo è un problema ecco quindi questo ho cercato di vedere ecco come viene insegnato è una questione affrontata appunto ecco allora io volevo valermi ecco quindi è un problema che è stato posto vedete due anni fa da Javier e da questa sua collega è tornato sul luogo del delitto anzi ancora più recentemente anzi molto recentemente con questo articolo direi che se andiamo alla slide seguente vediamo proprio che quando è stata 10 novembre ecco quindi siamo pochi giorni fa si è tenuto questa questo questo evento un po' come il nostro nostro di oggi che si chiama Imperio Inca o Tawantinsuyo ecco qui non mi azzardo io non ho competenze però vedete prospettive decoloniali sopra l'insegnamento della storia andina in Ecuador allora direi che abbiamo quasi finito andiamo a vedere che cosa si c'era dietro a questo misterioso termine e dietro a questi due punti interrogativi ecco allora leggendo questo articolo si scopre che l'antico termine Kechua Tawantinsuyo significava ecco vedete le quattro regioni ecco cioè Suyo regione non ho competenze neppure lontane Tawantinsuyo e penso questo T significa T insieme e secondo questa etnostorica peruviana Maria Rostvorovski forse volevo aggiungere una slide ho scoperto fra l'altro che molto recentemente 2016 era nata nel 2015 quindi una lunga vita ecco percorso l'intero secolo e pubblicato questo lavoro famoso storia del Tawantinsuyo potrei anche aver scritto sbagliato ecco comunque ecco cosa ci dice questa storica peruviana con un nome che fratto ci dice che ci sono state migrazioni di cognomi ecco evidentemente poi si forma ecco esprimeva un intento un impulso all'integrazione che disgraziatamente qui cito di seconda mano non si realizzò e si vede la via sbarata dall'apparizione degli eserciti di Pisano ecco lei ci dice disgraziatamente per descrivere come dire questa società queste strutture sociali militari politiche che come dire che si incontrano con con Pisano e non so per il Messico sarà la coltessa eccetera sin dalle prime cronache si usa il termine l'espressione imperio inca che poi è rimasto nella storiografia anche locale e anche negli insegnamenti questo è interessante perché si tratta di dire che cosa si insegna cosa insegnare ai bambini prima si diceva cosa insegnare ai bambini italiani adesso ci si domanda cosa insegnare ai bambini ai ragazzini agli adolescenti in classi come dire che certamente sono cambiate molto posso fare un piccolo inciso non so insomma all'inizio degli anni 2000 sono stato tra i fondatori di un corso di comunicazione interculturale e allora l'idea era questa di dire agli studenti italiani che attenzione c'è anche un'altra un'alterità adesso è molto più adesso più interattivamente sono cambiati anche i programmi in modo di dire perché perché molta di questa alterità no che ancora nel 2000 ecco diciamo sembrava lontana adesso lo è molto meno cioè io personalmente così tanti studenti appunto per dire come tutti ecco questo però però è interessante comunque siamo in Italia siamo in Europa se noi ci spostiamo in Ecuador per dire no cosa capita ecco per esempio Rostovrovski propone ecco di usare il termine tuantinsurio anziché impero perché perché il significato di quest'ultimo termine non corrisponde alla realtà andina ma situazione relativa ad altri continenti quindi ecco cosa hanno fatto ecco Javier Gonzales insieme a questo suo collega adesso purtroppo non sono riuscito a riprodurre hanno fatto più un'analisi molto accurata dei libri di testo di storia a vari livelli e hanno visto che appunto come vedete la matrice occidentale della descrizione del tuantinsurio ha portato a descriverlo come una monarchia autoritaria e teocratica fondata su uno stato centralista ecco se andiamo avanti possiamo leggerlo così ecco il loro obiettivo è quello interessante di esplorare le relazioni tra etnostoria cos'è l'etnostoria? l'etnostoria è un po' la variante latinoamericana dell'antropologia storica ha un po' origini diverse insomma potrebbe anche e la storia che si insegna a scuola e scolatici va bene l'analisi dei programmi ecco mostra che ecco la singolarità storica io cito da loro è trattata nei testi con categorie eurocentriche ecco poi una cosa che vale la pena di essere segnalata è che la questione in uno stato come l'Equador ma anche altri stati latinoamericani è praticamente delicata perché? perché attenzione vedete in Ecuador è stato istituito questo programma di educazione interculturale bilingue perché anche qui come sapete non so in Peru per esempio c'è il problema del meticcio quindi il Peru ecco noi lo immaginiamo ah beh ci sono evidentemente ci sono dei grossi problemi anche all'interno delle scuole e della didattica diciamo della didattica in Peru o in Ecuador e quindi l'auspicio di questi programmi di questi due autori ecco che programmi e testi ecco questo è interessante guardino l'etnostoria loro dicono se voi prendete i testi non so anche di americani vedete c'è un famoso un certo muro che infatti era un rumeno americanizzato che poi diventa uno dei padri fondatori diciamo dell'etnostoria quindi dello studio etnostorico questo significa archivio archeologia e osservazione etnografica l'etnostoria ha queste tre componenti campo archivio e scavo quindi è un po' diversa ecco se vogliamo ma ecco dice gli etnostorici non usano mai impero inca se non tra virgolette e questo è piuttosto interessante perché come dire coloro che fanno i programmi di insegnamento della storia in Ecuador non si confrontano potremmo dire con l'antropologia storica se lo facessero avrebbero una visione diversa e potrebbero come dire in maniera maggiore ecco venire incontro a quelli che sono anche in maniera più oculata più corretta anche perché se no si rischia di oscillare come potete immaginare evidentemente tra l'eurocentrismo e quello che può essere un totale anti-eurocentrismo che evidentemente manca di equilibrio bisogna evitare il furto della storia ecco cos'è il furto della storia lo vedete qua questo invece è un altro antropologo Jack Goody molto anche lui insomma recentemente che ha scritto questo libro tradotto molto rapidamente anche qui da Feltrinelli e direi che possiamo chiudere ecco ragionevolmente quasi nei tempi credo ecco cosa penso tutti vogliamo evitarlo lo si vuole evitare in Italia o si vuole evitare in Ecuador è il furto della storia cos'è questo ecco qui ho riporto l'incipit del libro di Goody che è il furto della storia dove dice del titolo si riferisce all'appropriazione della storia da parte dell'Occidente il passato viene concettualizzato e presentato secondo quanto è avvenuto su scala provinciale sulla scala provinciale dell'Europa anzi soprattutto dell'Europa occidentale viene imposto al resto del mondo e quindi ecco l'antropologia storica nella variante europea nella variante così è un antidoto importante per ragginare il furto della storia da parte dell'Occidente nei confronti del mondo ecco io provo a ritornare ma forse non bisogna dimenticare che può esserci anche un rischio della storia se si dimenticano magari un po' troppo facilmente quello che ci avevano detto le ruole di Rio Ginzburg cioè ci può essere anche un frutto dell'ambiente da parte dell'Occidente egemone ecco che poi ovviamente valia ecco rispetto agli Occidenti subalterni ecco peraltro forse qui chiudo il fatto che sia stato riproposto nel 2019 cioè l'anno scorso ancora perché perché è un po' una riproposizione di quella antropologia storica che rischia un po' di essere buttata via un po' troppo presto chiudo qui sullo strato sull'ora e un quarto insomma un po' lunga ma insomma c'era tanta roba chiedo scusa no anzi la ringrazio molto professor Biazzo perché insomma è stato effettivamente le abbiamo dato un compito difficile che è stato quello proprio di riassumere in un'ora quello che lei appunto di solito fa in un corso universitario quindi insomma è stato veramente difficile ma credo che insomma i concetti siano arrivati io volevo appunto chiedere se c'è qualcuno che magari vuole fare domande intervenire chiedere dei chiarimenti insomma per aprire un po' il dibattito ecco io come al solito ho un paio di domande che mi tengo sempre pronte per rompere il gas però insomma se c'è qualcuno che vuole intervenire intanto guarda se qualcuno aveva scritto ma qualcuno mi sembra che si sentiva meglio prima stavo leggendo e me lo sono perso perché purtroppo quando condivido lo schermo io perdo tutta la parte la visualizzazione quella bella con la griglia l'acciato sotto si comprime tutto da una parte e poi mi perdo i pezzi bene ma non so c'è qualcuno io magari provo a lanciare io questa una prima riflessione poi vediamo se qualcuno si aggancia nel senso che soprattutto pensando all'ultima parte a questo esempio di questo lavoro appunto di questo di questo ricercatore ecuadoriano in Ecuador in realtà appunto anche pensando ai manuali italiani ovviamente la prospettiva a meno dei manuali di storia ma anche di storia della letteratura di storia della filosofia insomma hanno un po' mantenuto purtroppo questa visione eurocentrica anche se negli ultimi anni ci sono stati dei tentativi insomma di cambiare questo punto di vista e tra l'altro la rete degli istituti della resistenza negli ultimi anni ha lavorato proprio in questa direzione cercando di proporre un'altra visione un altro racconto appunto della storia però ecco se io le faccio una domanda un po' così se un docente volesse veramente provare a introdurre questa visione antropologica appunto questo approccio all'altro secondo lei con quale testo potrebbe quale testo potrebbe iniziare e proporre ai ragazzi appunto parto dalle superiore perché è il contesto che conosco meglio ma poi insomma si può fare la stessa riflessione per le altre appunto per gli altri ordini scolastici quale testo secondo lei anche rispetto a quelli che ha citato si potrebbe proporre agli studenti e magari usarlo come testo da analizzare da analisi insomma per ecco per quale alterità magari ce ne sono tante alterità certo certo questa è una bella domanda nel senso che noi adesso ci siamo occupate prevalentemente nel corso dell'alterità di genere fino a questo momento poi vedremo nell'ultimo incontro un altro tipo di alterità però sull'alterità di genere la vedo in realtà anche la professoressa Palumbo ci ha dato degli spunti ma ad esempio rispetto alle classi ecco magari lei ha citato le classi subalterne quindi tutto il lavoro fatto da Gainsbourg quale testo secondo lei si potrebbe proporre ragazzi ma è un po' un po' un problema magari ma non so se esistono ecco onestamente con i testi perché adesso per esempio i testi di Gainsbourg è un po' che sono molto eruditi infatti perché io avendoli affrontati non me la sentirei di proporre un testo di Gainsbourg alle superiore sono veramente sono veramente sono veramente ecco non so ecco se esista una una per dire non so rispetto all'altro non so perché questa sarebbe storia ecco dell'altro non so alterità ci sono degli antropologi non so il mio collega amico Marco Aime per esempio c'è così che c'è perché c'è forse un problema ecco che ecco forse sono forse dei testi da scrivere ecco lì il problema è forse quello che sarebbe dei testi da scrivere come si è cioè sostanzialmente l'antropologia manca alle superiori manca manca totalmente nel senso che effettivamente gli approcci antropologici si hanno all'università se uno ovviamente sceglie dei corsi di tipo umanistico ma non è neanche detto perché insomma io stessa con un percorso di studi storici in realtà ho scelto poi di fare degli approfondimenti di tipo antropologico ma non era nel mio piano di studi ecco quindi mi chiedo no nel senso come fare a inserire l'antropologia adesso 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 parte che ci sono i famosi 24 crediti adesso adesso si forse può essere un po' di aiuto anche solo per assorbire qualche nome certo non è che con 6 crediti si va tanto là magari però insomma ma ci sono dei testi che ci sono dipende ecco non so c'è anche dei colleghi che hanno fatto dei testi per i dicei allora come socio psicopedagogici eccetera e non lo so anche perché devo dire che sono non so forse sono anche occasioni queste anche per incontri ecco perché io onestamente non saprei ecco come 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 possono ecco Montaill per esempio era un libro ecco magari ci fosse stata un'edizione ridotta era molto più leggibile ecco voglio dire Ginzburg ha avuto molto successo sì ma per certi versi quasi strana ecco la cosa Montaill veramente era una lettura anche scritta con uno stile insomma per cui uno si faceva proprio trasportare ecco confesso così ecco che non non saprei indicare perché dei testi così dei testi da proporre ecco forse ci saranno insomma sono stato preso un po' così potrebbe essere sì sì ma potrebbe anche essere magari anche pensate ecco esatto che sia non so una proposta che si può lanciare perché effettivamente appunto potrebbe essere interessante inserire ma no perché poi c'è anche una cosa da dire ecco perché adesso forse non so nella direzione della storia globale ecco forse è più facile perché letteralmente insomma si tratta di ridurre volendo ecco di ridurre lo spazio europeo e guardare e guardare altrove ecco ma io devo dire che fra l'altro non è pure una cosa così nuova ma io ricordo che negli anni trenta prima così insomma dell'epurazione c'era c'era lo storico Arnardo Momigliano che era un antichista insomma molto molto giovane ecco allora e per esempio ricordo nel presentare primo anno di 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 ginnasio ecco si studiava la storia antica io ricordo avevo letto questo libro no ed era poi era molto interessante perché non è che si prendesse non so la storia cioè la Grecia era tutto o Roma era tutto e poi c'era qualcosa di immaginare era molto interessante perché si procedeva più o meno ecco con una sincronia diciamo che andava avanti per cui ci si rendeva conto non so che nel 2000 avanti Cristo veramente Roma non c'era ecco e poi cominciava a arrivare arrivare è interessante perché era molto difficile da studiare credo no però ecco io mi era piaciuto io l'avevo letto così per caso no c'era entrato poi ho avuto anche occasione di conoscere Mumigliano a Londra proprio che lui poi aveva dovuto fuggire diciamo andarsene dall'Italia lasciare il posto che occupava e così via era interessante perché ci si rendeva conto che c'erano grandi imperi e c'era il villaggio di Pastore diciamo intorno al 750 avanti Cristo no e si vedeva questo scorreva insieme quasi come delle cartine storiche che in movimento e ci si rendeva molto meglio conto ecco che quindi c'era meno rischio da questo punto di fare anche una storia troppo ecco diciamo troppo come dire costruita e costruita sul presente ecco perché anche qui ci serve io non lo so perché anche quando c'è stato appunto il postmodernismo non è che questo problema la verità non la verità e cose del genere non so ha messo veramente portato a mettere in dubbio anche un certo modo di fare storia poi non so quanto sia quanto sia penetrato ecco sta di fatto che secondo me ecco c'è anche questo che anche questa storia dell'altro ecco lo si vuole veramente oppure no o soltanto attenzione ad esempio istituto storico della resistenza per esempio quello che è stato molto coltivato in tutta Italia la storia orale ecco per esempio la storia orale certo non si va molto indietro se vogliamo ma la storia orale era una storia una storia dal basso una storia non narrata una storia che ci permetteva di capire meglio ecco come delle cose possono ci siano molte prospettive ecco no forse è come dire il postmodernismo esagerato perché alla fine poi non so cosa ne pensano chi ascolta ma alla fine non esisteva più nessuna prospettiva è stato più uno sgretolamento ecco però mi sembra beh in fondo ecco si tratterebbe di cercare ecco io per esempio non lo so interessa ancora ecco dico io non so la vita quotidiana non interessa più perché io credo che ci sia stato un momento che fin dall'elementare per quel poco che ne so si cercava di andare in quella direzione ecco non solo più le battaglie gli imperatori di fare queste cose però adesso anche a livello di storia che a meno l'accademico universitaria non è che oh e compazza un volto ecco non è che interessi forse molto per cui c'è anche questo da dire che appunto interessa una storia dell'altro o non interessa tra l'altro adesso questo è organizzato dalla storia della resistenza insomma bisogna vedere anche dei programmi perché adesso insomma sono cose che ci si dice ma potrebbe anche non interessare per nulla anzi potrebbe essere proposta una visione una visione negativa ecco per esempio dell'altro quindi insomma basta poco ecco quindi per entrare ecco diciamo che forse ecco anche così assumendo che si ritenga importante studiare come dire ecco per esempio la storia ecco la storia dell'altro perché anche qui c'è un problema ecco per come dire noi abbiamo l'alterità tra noi queste sono le cose che si dicono ma che storia insegnare ecco anche lì bisogna stare un po' attenti ecco non insegnare magari una storia un po' oleografica ah bene abbiamo i ragazzi perugiani ti insegniamo la storia dell'imperio inca no così e quindi è tutto un po' come non so come con l'adozione ecco se posso dire no bambini adottati prima c'era il clean break e buonanotte non dovevano sapere nulla del loro passato adesso invece i bambini adottati devono sapere ma che cosa si fa per cui anche è molto delicato ecco questo rapporto proprio di ecco dicevo prima di comunicazione interculturale se possibile ecco che tenga presente anche dei dei passati ecco comunque sicuramente ci sono queste dimensioni ecco quindi perché poi non so perché no sono d'accordo perché effettivamente io pensavo proprio a questo nel senso a queste classi dove abbiamo la presenza una presenza di altre culture e quindi ci verrebbe cioè l'automatismo è ah allora raccontate la storia degli altri paesi però appunto mi chiedo poi in che modo puoi far dialogare no queste altre storie chiamiamole così con la storia diciamo occidentale e poi se davvero ha un senso questa cosa no e quindi la proposta che a me viene in mente è quella magari di ripensare davvero al racconto storico quindi non pensarlo più appunto come una successione di eventi sulla linea del tempo ma pensarlo in modo trasversale per grandi temi cioè a questo punto io posso affrontare quel determinato tema da un punto di vista storico ma questo mi apre alla possibilità di far entrare l'altro in questo racconto non so se mi sono spiegata cioè beh oddio adesso per esempio c'è un libro che per il genere si chiama La scoperta dell'America no di Cristoforo Colombo che abbiamo visto sta facendo una fine fin troppo brutta ecco direi adesso non è stato eccetera eccetera c'è questo libro di Todorov che si chiama invece La conquista dell'America quello è un libro insomma che non è neppure poi eccessivamente complicato da leggere cioè voglio dire per esempio è un libro che si fa leggere ai primi anni di università si potrebbe anche leggere un po' di lì ma con un po' di commento con un po' di con un po' di ecco per esempio ben venuto in mente quel libro lì è un libro che rimane molto intanto si ragiona così scoperta conquista no e poi se si va poi ecco certamente un po' questi questi certamente un po' come dire di storia globale che molti osteggiano aiuta un pochino ecco per vedere non c'eravamo solo noi c'erano anche altri che facevano cose cose diverse che così possono interessarci meno un po' quello che diceva ecco voglio dire mettendo per esempio è interessante perché per esempio il libro di Momigliano che dicevo prima quando c'è stata una svolta cui bisognava come dire mettere Roma al centro è stato sostituito ad un libro di testo che circolava tutti i ginnasi di c'è e di allora in cui si partiva dalla storia di Roma cioè Roma era già era già grande nel 750 avanti Cristo per semplice ragione che era predestinata a diventarlo e quindi contava solo quella storia e il resto ruotava ecco intorno e qua non è un modo particolarmente oppure non so si studia l'impero romano ecco per esempio vedere le province no? io ricordo questi libri molto interessanti si andava a vedere si scopriva una storia provinciale ecco no? che aiutava veramente a decentrare altrimenti si rimaneva soltanto soltanto Roma diventava Roma angusta ecco potremmo dire e quindi questo certamente posso presumere ecco che degli studenti che vengono da altri paesi ecco diciamo anche semplicemente che magari si rendano conto che c'è come dire che c'erano altre cose ecco beh questo può essere già può essere una storia un po' più un po' più bilanciata ecco e se no ripeto ci può essere un po' questo sbilanciamento totale per cui ci diventa poi molto una storia politica nel senso che poi viene molto imposta appunto se voglio dire il fatto che il fatto che in quegli anni si sia passato da una storia sicuramente anche fatta da così uno storico come dire molto che aveva che però aveva quell'occhio chi lo sa forse anche il suo essere ebreo ecco per dire forse aveva 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 aiutato a vedere diversamente in fondo come dire la penetrazione dell'ebraismo per dire no sta di fatto che era per me allora non so forse avevo già un po' questi interessi personali no però viene sostituita improvvisamente da una storia invece totalmente romanizzata e quindi di fatto insomma veramente fascistizzata però ci è voluto un attimo è bastato cioè da un anno all'altro letteralmente quindi giusto per dire un po' anche questo insomma non bisogna dimenticarlo però forse ecco si è un po' sprovvisti ecco di qualche cosa che che possa che possa arrivare anche qui si capisce di vedere un po' quello che è un po' il presente io devo dire che la prima volta che mi viene chiesto di parlare di di perché sovente incontri non ci sono ho partecipato io magari anche altri io in genere quando mi presento dico che sono un po' un pesce d'acqua un pesce d'acqua dolce perché avendo fatto ricerche sulla riva del Sese è un po' diverso rispetto ai miei colleghi che sono andati nel mare del sud o in Africa però poi insomma si acquisiscono delle competenze per cui sovente si fanno delle si fanno delle degli incontri come questi in cui però si parla più di antropologia to cure quindi l'alterità è un po' quella di Marinovski ecco vedete ci sono gli altri pensano diversamente così qui è una cosa più delicata e sottosommato anche non prive dei sidie perché ci sono modi altri di modi altri di pensare di vedere e anche su quello c'è stato un problema perché adesso io ho fatto vedere questo richiamo al libro di Salis ma c'è stata una polemica direi non dico sanguinosa ma certamente molto dura perché c'era un antropologo che si chiamava Beyesekere originario di Sri Lanka il quale si è sentito offeso da questo modo di proporre cioè da questa formula different cultures different historicities perché dice a questo punto torniamo in realtà torniamo all'alterità come dire ecco c'è un'altra formula che questo martial silence sapete qualcuno amava the west and the rest ora lui in fondo parola con me dimmi com'è ho sentito mi sentite sì sì no scusi è stato un no volevo giusto dire una cosa ecco che anche qui bisogna stare un po' attenti con l'alterità perché Marshall Sunnis che è un autore anche schierato eccetera però ha usato molto questa contraposizione the west noi and the rest gli altri perché lui voleva proporre gli altri un po' come sfida a certi nostri modi di agire di pensare no per esempio così homo economicus che diventa sovrano e così via no solo che c'è un rischio perché si va un po' una contrapposizione dicotomica no noi e gli altri questo è sempre un problema per cui c'era questo antropologo questo antropologo come dire appunto singhalese che diceva ma attenzione perché così noi rischiamo poi specialmente poi quando si tratta un po' di divulgare eccetera eccetera di trasformare l'alterità come dire in una primitività no che alla fine si presta per degli usi totalmente opposti cioè lui dice no attenzione lui dice perché Marinoski che abbiamo visto è stato il primo che ci diceva attenzione noi vediamo sì che c'è magia religione e così via ma lui diceva questi selvaggi sono altrettanto razionali di quanto noi lo siamo semplicemente in periodi di come dire di crisi come quella in cui ci troviamo adesso in cui per dire loro ricordano a degli strumenti così magico religiosi non diversamente da quanto si faceva quando arrivavano le pandemie dalla peste nera fino a peste manzoniana si facevano delle processioni ecco magari degli assembramenti diremmo oggi chi lo sa se erano una buona cosa però ecco Marinoski è quello che ha detto attenzione loro sono razionali come noi ecco c'è un po' rischio talvolta nel dire ma loro hanno modi di pensare totalmente diversi che poi diventa un noi e un loro noi siamo europei abbiamo una storiografia di tipo ancora che è tornata al positivismo che cerca la verità ecco per esempio su quest'ultimo libro di questo libro di Ginzburg c'è una postfazione interessante perché lui dice ma anche questa faccenda appunto che così la verità non esiste eccetera eccetera abbiamo visto un po' anche dove siamo arrivati ecco per lui dice ma attenzione prima di buttare via anche alcuni antropologi cominci a dire facciamo attenzione ecco quindi ecco certamente forse possiamo uscire così con questo questo problema che certe volte come dire alterizzare troppo è un problema ecco diciamo se vogliamo dire mi ricordo che gli anni 70 ecco visto più nel 75 credo sia uscito un libro che si chiamava Le lingue tagliate era un libro sulle minoranze linguistiche in Italia un libro che a me l'ha piaciuto molto perché insomma anch'io vivevo un po' un ambiente dialettofono mi sentivo e lì era un libro come dire cioè nel fare gli italiani si erano distrutti come nel fare lo Stato italiano si erano distrutti i dialetti per quello anche era andato a studiare una minoranza linguistica per vedere qual era stata l'influenza non so della scuola poi erano state insomma vabbè se no non mi dilungo ed è interessante perché di fatto no quella quella insistere molto su quella che era un'alterità tutto sommato che era stata una diversità che era stata schiacciata beh ricordo che già allora ecco c'era un sociolinguista Gaetano Berruto no molto eminente e così che diceva facciamo attenzione ecco nel nel tutelare fin troppo ed è interessante perché come al solito veramente si è su un filo su un crinale ecco ma piuttosto scivoloso perché poi come dire anche così la lega è venuta un po' fuori da quello ecco c'è una certa per cui si 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 punta troppo sull'identità locale il concetto di identità il mio collega molto noto a Torino Remotti che qualcuno avrà sentito nominare si era sentito in dovere negli anni 90 di scrivere un libro contro l'identità ecco proprio perché ed era in difesa dell'alterità ecco e noi sarebbe un discorso magari che meriterebbe lo facciamo sovente che incontri con insegnanti sul concetto di convivenza adesso qui oggi non possiamo arrivarci perché ecco quando si parla anche dell'alterità c'è un po' un rischio ecco cioè un'alterità cosa si fa la tolla si tollera meglio tollerarla che non tollerarla però è poi sempre una tolleranza si riesce effettivamente ad arrivare a degli scambi ecco se vogliamo dei meticciati dei meticciamenti chiamiamoli delle ibridazioni o comunque qualche cosa di diverso ecco perché anche questo è un problema mi spiace personalmente l'ho detto anche che tutto sommato tra storia e antropologia stia cominciando a ricomparire un confine perché se uno è un po' troppo storico negli archivi non è abbastanza antropologo non pubblica né riviste antropologiche non gli danno il posto e allora così ecco quindi secondo me è tutta una cosa quindi io spero oggi adesso poi spero di aver buttato lì qualche titolo insomma avete queste slide questi titoli magari qualche curiosità ecco diciamo poi soprattutto da parte di insegnanti poi magari trovare delle vie di trasmissione però certamente un po' l'antropologia in questa strana situazione perché come dire un po' viene viene anche come dire un po' incoraggiata e un po' viene non è un corso di laurea che abbia sempre goduto di buona stampa ecco in questi vent'anni comunicazione interculturale ecco per dire quindi e questo va da sé e però anche stare attenti anche a relazioni interetniche tra virgolette tra discipline ecco perché si rischia un po' poi di dire ma quello cosa ci interessa eccetera grazie ci sono domande